C'è questa sarebbe la parte finale? Non so che stavo abbastanza, invece le spaventare la mia parte, ma te la darò... ti è stato aiutato... un po' un po' un po' un po' che veboardo. Vincent, un po' un po' un po'. Fred, hai un minuto? I'll be right back, guys. What's up, Leo? I need to get up on that roof. Can you make it happen? It's gonna cost you. You know, I'm good for it. Just get me up there. I need to get up on that roof. And here's the feeling that it won't end well. Hey, Fred. What's up? Oh, good. What do you want? We've got a couple of workers here. We need to change the scenery. Sorry, we're full. I'm sure we can figure something out, right? I'm sure we could use a few extra hands around here. Leo, hurry up. We don't have all day. We're waiting right here. Hey, see up there? Yeah, we need to get up there somehow. All right. Quindi mi darei una mano. Vado a prendere la... Vado a prendere la... Vado a pulire davanti a lui. Cos'è una sfida a chi scopa meglio? Sì, è meglio come salgo. Sì, c'è meglio di cominciare Vaishan, corre! Mi sa che mi dà una spinta, se no. Che che è sto cambio, cioè? Sono io che vado a prenderlo, mica tu. Tu? Che stai facendo? Niente. Solo guardando qui. Ho un nuovo gioco. Come qui. Sì. Ora torniamo a lavoro. Sì. Allora, io mi allantono. A me metto a polere. Ti serve qualcos'altro, Shen. Non so se le guardi mi vedono qui. Se è presso di qua. No. Sì, non rompere anche questa. Eh, ma io te la devo rirompere quando... Quando tu devi Shen. Ok. Posso? Allora, bisogna tornare ancora. Pesso lo scalpello. Come faccio adesso? Come faccio? Aspetta, ehm... F***, i guardi sono andando in questo modo. Mi distrugge... Beh, se ci penso io. Come faccio? Come faccio? Bu. Hey, posso chiederti qualcosa? Cosa è? Guarda, non è stato un guardo di presenza quasi come essere in presenza? Dio, sei qui, tutto il tempo, con noi. Sei sei un smartassi? Dai, lì c'è l'altra guardia. Come va, man. Sto cercando di struirare una conversazione qui. Che mi sa che devo entrare di qua. Ok, ok, ok. Lascerò te solo. E tu meglio. Che cazzo sta andando? Dove esce? Ok, bisogna trovare un paio di fuori ancora. Vai, veloce. Tutto tuo. Just need to give Fred the tool now. Guarda, basta. Tagli lo scalpello. Un momento di panico, aiuto, che faccio, che faccio? Un vecchio metodo da prigione. L'oggetto nascosto dentro il libro. Ciao. Hey, Leo. Sup, Fred? I've got something special for you to read. Hope you like it. Sure I will. Come faccio a dirti di fermarti? Io ti dico di fermarti. Cioè, puoi fermarti? Fermati. Come faccio? Fai nulla, fai nulla. Shen sta arrivando. Shen arriva. Sto pisciando. Sto pisciando. Ok, con te mi ha anche un'altra guetta. Aspetta. Hey, hey, what are you doing, you piece of shit? Stop that right now. Mi sa che ho sbagliato, eh? Qualcosa mi dice che è un game over, giusto? Mm. So che è un pochino più di tempo, adesso se lo tieni fermo. No, ho avvenuto nulla. Arriva. Arriva. Arriva l'altro, eh? Tra un po', vai. Tieni mi contattata anche dall'altra parte, però. Ma lui è fermo. Arriva. Shen arriva. Fermati. Sì, sì, sì. Arriva. Arriva. Da fermo un attimo. Arriva, Shen. Arriva. Arriva. Madonna che ansia! Non iniziare. Non iniziare. Che mani fermo. Arriva l'altro. Ovviamente non si oggi è una sta parte. Mamma mia, ce ne saranno altri, non si oggi è. Quando va via lui, puoi, eh? Aspetta. 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 Non ci ha nulla, che non so... Torna. Mamma mia, lo so... Vai. Sei lento come la merda, tu. Sei lento come la merda. Distraila, distraila. Basta dirle lenzuola, non dirle la trota di lenzuola. Giorno delle visite. Shen. Blocca, 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 blocca. Sì. Vieni. No, fello! No! Porco... Stop that right now! Cazzo, è arrivata l'altra! Cioè, che timing perfetto, eh! Cioè... No, ma... Aspetta. Non vedo, perché non mi... Vai, 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 vai! Tieni, tieni veloce, veloce! Tieni, tieni veloce! Tieni veloce la mano! Ma perché premendo? Tieni, tieni veloce la mano! Leva la mano! Leva la mano! Leva, scende! Fa un'ora e ci metti! Andiamo? Andiamo? No! No! Uffa, no! Posso? Prendi sto cazzo di cosa! E' sul tuo turno! E' sul tuo turno di fare la roba del cesso! Cioè, mi dai tu l'ok? Sì, sì, vai! Inizio! Was der caso! Was der caso! Ok, togli, Gian! Togli, 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 togli! E' sa' fa' Q! Sì, 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 sì! Stai sicuro che è was der? Sì! Dai, adesso vediamo la tua velocità di premere a raffica! Voglio proprio vederla adesso! Gianfi! Aspetta, quiz! Quiz! Q!Q!Q!Q!Q!Q!Q! O!Q!Q!Q!Q!Q! c***o! un attimo, se la distrago un attimo Forco due te, vado Questa non mi vuole ascoltà Posso? No, arriva l'altra No, stavo proprio, ho visto dall'altra visuale Giratemi dall'altra Oh, è che male, dateci 5 minuti per fare una cosa con calma Poi questo tanto torna indietro Ti fai qualche domanda? Non posso questo Posso senza l'altra Guardami un attimo, vado? Vai vai Tanto questa la distrago se arriva Ehi guard, cosa vuoi? Mi bello è Fatto Che vuoi che mi vuoi fare? Oh Dio Ehi Leo Sì Sì Siamo finita Allora, aspettiamo fino a che le luci vengano Quindi quel cesto non funzionerà più Lights out Ecco, che eserci Quei cesti si spostavano tranquillamente senza tubature né niente Pronti a scappare? Dai Poi so che sei la prima volta che siamo Sincronizzati Ma Dall'altra parte Ma non il culo bugato Vai Un centipede Un fanculo Un centipede Del cazzo Ma mi levi Ti levi Guarda che Devi salire sopra Ignorante Dico che bisognerà passare lì Però bisognerà fermare la ventola Potremmo metterci in mezzo sbrolli Ok, di qua non si va Di qua manco Ehi Sesto bodyblock Ti levi Leo, I need some help here Si è trovato Basta girare e trovarà Io ti ho detto che dovevamo Fermare la ventola Vabbè Mi risposto Sono un fonto Perché in ogni modo Perché ti devi sempre con il mano bastoni Non mollare Guarda Ferma la ventola Qua c'è qualcosa Ok Ok chiamato apri sta porta io ho detto ora c'era è nativo se non è che ho premuto per farlo dire alvo il parlo spessi ho premuto g non vedo ci sono dimenticati i sottotitoli cioè non ci sono i sottotitoli in italiano a me si guarda guarda questo cosa stai pensando? stai pensando di schifo ok ok bisogna trovare un modo in questo luogo una volta che facciamo possiamo prendere i sottotitoli in qui sembra facile il problema è che non permettano iniziare in qui pensi che possiamo spettare in qualcosa? sì ma abbiamo bisogno di prendere un sacco di piazza quindi uno di noi deve metterci lì dentro farsi riempire di lenzuola e andare nel magazzino quindi uno di noi deve metterci lì dentro nasone la rendi tutto così complicata e noi come siamo entrati qua dentro? è un nuovo giorno ah è un nuovo giorno? eh guarda posso chiederti qualcosa? non ho tempo per te wow 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 che stai facendo in me? fuori da qui vai scusa mi sa che ci serve un carrello intanto un carrello ce lo vado a città posso usare una delle cartelle qui certo nomi e numero Vincent Moretti 3465 Vincent Vincent non c'è non Vincent qui scusate tu sembra che sei un tipo di bambino penso che sono però sai ho un buon pacco qui penso che il tuo nome ah grazie non puoi andare e trattarti magari faccio facciamo questo qui vai ok non fuori ora non ho planificato ricordi stai preso ovviamente e nessun movimento sud shhh parla di parlare ci saranno sospicili sì 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 bello è il tuo visual e se faccio tipo e se premo esci quando ti mi dico esci sono qui sshh slow your voice man qua vabbè vaffanculo buttate i pezzi di cartone di cosa dentro no? copri tutto i lenz sai cosa sarebbe bello? arrivi lì? rimiesci TADAAA esatto quello che ho detto ma qua c'è quel carrello eh prendi altri vestiti e buttaci di dentro quelli là sulla sinistra c'è il mio pacco no mi vuoi muoverti? aspetta sto prendendo qua pensi che ne bastino due eh pensi che bastino sti due no di più di più buttane di più buttane molti di più no di lenzuola vuoto sì ma vai scusami sul tavolino vai al tavolino vai al tavolino shen vai a sinistra 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 tutto questo tavolo eh la madonna guarda tanti ce ne hai è vero sono body blockato ok siamo tutti guardati si mi premere per nasconderti devo premere eh sopra i miei cu tadaaa se vuoi farlo ok vediamo cosa abbiamo qui ok sembra bene perché ci mettiamo troppo nel barro però è stato troppo bello però è stato troppo bello tadaaa ok ok è stato troppo bello guardare ma è dove sta sempre coperto boh dire almeno che ha l'alattrice rotta potevi dirlo eh non credo che mi funzioni se lo provo che io è stato troppo bello non faccio non c'è non c'è non c'è non c'è guardare Rimetterli lì del buco, d'alto. Quale buco? A sinistra, lì sopra. Non me li fanno ammettere, eh. Credo che ho bisogno di Leo qui per aiutarmi con questo. Ehi! Prendi la tua sua carta! Sì, sì, ok. Che cosa faccio al palazzo? Eh? Ma com'è? Devo andare a parlare con la guardia? Ma sei scemo! Sì, ho i miei fatti in me. Sì, ho i miei fatti in me. Credo che ho bisogno di Leo qui per aiutarmi con questo. Sto sicuro che ora sia scemo. Non scemo scemo. Sei sicuro? Sì, l'acqua , l'acqua , l'acqua , l'acqua , l'acqua , l'acqua , l'acqua . Ma madonna. Ho capito che... Sei ok? Sì, pure l'acqua, ho proprio chiesto di salvare il diritto. Sì, l'acqua , l'acqua , l'acqua , l'acqua , l'acqua , l'acqua , l'acqua . Come ci fa? Che si fa a tracciarsi? Non puoi. Mi piace l'autovisuale. Ma come cazzo faccio ad entrare? Ma vai da lui? Eh, non posso interagire. Ma non puoi entrare, scusa, sono nella porta. Dove se n'è andato? Ho chiuso la chiave. Ho la chiave della tua parte. Eh? Non è che la chiave è della tua parte, di della guardia. Aspetta, forse ho un'idea. Aspetta, 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 non fatti vedere. Si è busso il vetro? Posso? No, ok, è girata. Andare. Sì, riuscissi a vedere. Ok, adesso... Ok, bravo, togliti. Ok, aspetta, aspetta. c'è la venta, ora dovremmo mettere le pezzi in là ok ok mi dico i pezzi tutto come? passa passa ok possiamo mettere anche la quarta già che c'eravamo eh e beh, stavamo fare un po' più lungo il coso a sto punto ero lì intanto questa ventola è rotta, è spenta non è rotta, è staccata la corrente l'abbiamo rotta ok ok credo che ci sia sì speriamo sì, ma perché c'è una scala nel vuoto? questo ancora non l'ho mica capito chi scende per prima? non davvero speriamo che queste scala si prenderanno insieme che non c'è nessuno che non c'è nessuno c'è nessuno non c'è nessuno ed fuori non c'è nessuno ecco la merda devo fare tutto io guarda che manca apila si ma prendi la apila no ce l'ha come devo andare io andate avanti magari devi fare qualcosa e sono pieno di merda c'è un po di luce dove c'è una leva gira gira la monopolina yeah sono uscito da questo melma qua vieni qua guarda la valvola qua sembra la più un mostro cazzo no subito eh mamma mia cos'è diventata l'awake c'è se ti giri mi trovi grazie ma è sempre sceso andiamo lo sfondiamo uno due tre uno due tre abbiamo fatto era stato apposto è troppo stupita la scena ti togli da davanti che ti faccia luce che c'è qua area niente orco 2 cazzo allora di qua siamo venuti ah no si di là c'è una freccia si ma qua è chiuso andiamo qua ah bravo cazzo che c'è successo guardia 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 ma sta prigione è fatta di carta pesta questo oh cazzo è troppo alto Non mi dire che dovremmo appiccicarci culo a culo e spigirci su. Oh mio Dio. Mi ricorda le follie dell'imperatore. Che cosa? C'era... C'era... Ah, che... Calma! Calma, calma, lo farei io! No! Ho sbagliato! No! Ho sbagliato! Ho sbagliato! Ho sbagliato! Ho sbagliato! Ancora! Aspetta un attimo! Ho finalmente un po' di sincronia! Ho sbagliato! Ho sbagliato! No, 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 no! Ok, ok! Vai tu, Shen! Non è che più se nemmo è più la barra diventa piccola! Ok, va bene, va bene! C'è chi? c'è moda se riscendiamo e risaliamo? credo è la stessa via, certo? non c'è dei trucchi di bambini? sicuramente non provo la lamentela non c'è